Ciao, sono Elvira, sorella di Selma Mosic, che è sparita a Srebrenica nei giorni della caduta della città e che tutta la mia famiglia sta cercando da 24 anni. Quando è scomparsa io avevo solo due anni, per cui purtroppo non mi ricordo di lei. Ciò che mi porto dentro da tutta la vita sono i racconti su di lei che mi hanno riportato i nostri genitori, oltre a una grande sofferenza e un grande vuoto. Oltre a me, i miei genitori, Selma ha altri due fratelli che vivono negli Stati Uniti a St. Louis. Anch'io vivo negli Stati Uniti, ma nell'Iowa, con mio marito e i nostri due figli. A marzo 2019, solo per caso, mia mamma ha trovato Selma in una foto apparsa su una pagina Facebook e ha riconosciuto subito i vestiti che Selma portava quel giorno e ci ha chiamati tutti per dircelo. I miei genitori, fin dalla sua scomparsa, hanno continuato a cercare tracce di mia sorella nei modi più disparati, attraverso la Croce Rossa Internazionale, ma senza alcun risultato. Nel marzo del 2019 si è accesa per noi, quindi, una nuova speranza, che Selma sia viva e che è da qualche parte. Da quel giorno non ci siamo più fermati nel fare ricerche su di lei e sperare di trovarla. Il nostro più grande desiderio è trovare Selma. Per questo spero tanto che questo articolo e questo mio appello arrivino lontano e che chiunque ha informazioni di qualsiasi tipo di su Selma ce le faccia sapere e ci restituisca la pace, almeno per dirci che sta bene, ovunque lei sia oggi. E che se neanche chi sa cosa è stato con Selma e ci resta in un'amir, e che si riusci a farlo a sapere che sia bene, ma che sia bene, ma che sia dove sia stato. Grazie a tutti.